E va a catturarlo, c'è una seconda occasione ancora per Perry che sale a schiacciare in Fiamma, il palla verde. Di Falsi, apre Falsi lo canestro Cortese nelle rotazioni, Okoye libero da tre punti, il canestro di Okoye. Svit lo brucia, Perry va a schiacciare a una mano. Va a cercare anche la layup, Andrea Cellotti. Quasi il recupero di Benevelli sulla rimessa e poi sullo scadere, Amoroso trova la tripla. Il pallone vivo, poi Giacchetti non controlla benissimo, è un pallone difficilissimo. Green dall'altra parte, vuole fare concorrenza a Daniel. Ferrara ringrazia, Wildman comunque è grande, campione, poi c'è la layup di Molinar. 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 Molinar di Washington. Il gioco seduta dentro. Va a schiacciare! Alex Legion! Quella Fulicchio da testa alta, davvero, anche se adesso il punteggio rischia di essere punitivo con questa azione da highlight di Lawson. Sì! Bowers finge il tiro, Zacchietti si addormenta e Bowers lo punisce!